Ben ragazzi qui è Rone bentornati eccomi qui con questo nuovo video sono qui in questo momento a introdurvi brevemente il video di oggi come avete visto anche dal titolo come molti mi avete chiesto nelle ultime settimane come anche io personalmente avevo già avvisato negli scorsi video con oggi voglio introdurre un pochettino di varietà a livello di giochi trattati nel canale per la prima volta insomma perché oltre a Call of Duty che comunque è il gioco con cui è nato cresciuto e che continuerò a trattare nel canale senza problemi anche magari il motivo per cui molti di voi sono iscritti anche se spero magari un attimino anche per la persona non soltanto per il gioco trattato comunque a parte questo ragazzi oggi voglio portarvi un gioco che molti di voi mi avete chiesto che è Battlefield 3 perché comunque dopo aver visto le tre le immagini di Battlefield 4 sarà sicuramente un gioco che io e il mio gruppo di amici prenderemo nei prossimi mesi però dato che non ho mai giocato a Battlefield se non negli ultimi due giorni da quando ho preso Battlefield 3 questa serie è appunto fatta perché per un abbone in questo momento quale sono io su questo gioco vorrò pian pianino assieme a voi assieme ai vostri consigli e consigli dei miei amici che magari sono un po' più esperti a giocare a questo gioco migliorare con il tempo per arrivare insomma pronto sapendo giocare insomma un po' al meglio a Battlefield per l'uscita di Battlefield 4 quindi sarà una serie un po' divertente in compagnia di altri amici nella quale cercheremo pian pianino di imparare sempre più cose e migliorare sia a livello di gameplay sia a livello di squadra perché insomma Battlefield è un gioco molto di squadra detto questo ragazzi spero che il video vi possa piacere noi ci siamo veramente divertiti tantissimo nel registrarlo che insomma è la cosa fondamentale di tutto questo vi ricordo se volete lasciare un bel mi piace anche per supportare insomma un po' questa nuova rubrica questi nuovi episodi su questo nuovo gioco io vi auguro una buona visione un buon divertimento e a presto bella eccoci qui ragazzi siamo qui in successo sarà una parità lunghissima perché sono 700 e passa godi eccoli qua 700 passa credit ticket qua quindi probabilmente taglierò alcuni pezzi e prenderò i pezzi più belli farò un piccolo montaggio detto questo oh Zamp basta di morire ma mi rianimi in mezzo ai nemici che devo fare andiamo a facerla soldati ovviamente Battlefield ragazzi è un gioco di squadra quindi per questo che ho fatto un po' un video con gli altri perché è più divertente perché teni Battlefield io sono ancora nel cesso diciamo che il nostro compito oggi qual è Ron? nei tuoi confronti cosa? il nostro compito nei tuoi confronti sto ria rimando tutti ragazzi si gioca a questo gioco si ecco è dare qualche postilla a Ron perché comunque questa serie si chiama l'addestramento quindi io dovrò pian pianino cercare di prepararmi su Battlefield in vista anche di Battlefield 4 che sarà un gioco che tutti quanti prenderemo ci sarà modo di giocare tutti quanti siamo in questo momento su Close Quarters che è l'espansione che io ho preso perché comunque è un po' più dinamica e quindi evitiamo di stare troppo tempo magari nelle colline deserte a guidare camioncini quindi anche a livello visivo può essere un po' più dinamico voi dove cazzo siete in questo momento? io sto salvando il cularon che corri e non vedi chi è dietro no raga posso dire una cosa che è un po' che non dicevo ma ci tenevo a dirla ah da su Battlefield non muoiono sicuro muoiono qualcosa mi diceva che l'avrebbe detto chi l'avrebbe mai detto? raga raga su B sono venite su B a prenderla ma perché c'ho il cecchino io? qualcuno che viene su B vai Johnny tu fatti Johnny nooo ma sta gente che entra dalle porte non le chiude regà regà aiutami a conquistar B ma perchè sono tutti raga sono tutti di livello 100 sta entrando uno mi ha ucciso l'F2000 c'ha un rateo di fuoco tipo di 9000 ma perchè ha un cecchino? ok 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 battle battle oddio oddio girati battle ciao Johnny chiacchela qua chiacchela qua da un secondo ma perchè battre c'ha il cecchino? ma questo è un nemico random ma c'era un nemico qui sotto di me eccolo qua che mi ha coltratto da dietro ma io sentivo che c'era qualcuno che mi camminava di fianco io sto giocando senza audio dove ti ha ucciso Teo? io non ce l'ho neanche sono verso B ho le bandiere ragazzi l'ho preso l'ho preso ok stiamo prendendo C ottimo oh sono stato promosso a livello dell'Aquila arriva anche su C no chi è che c'è su C raga? raga mi hanno accoltellato brutalmente a me raga aia 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 non ho detto prima Zepp resisti Zepp resisti che ti parlo le mutande sono qui non il defibrillatore ma cos'è sta bomba por... cric sono diventato livello colonnello adesso buono quello con la vabbè se hai bisogno di cura vieni qua che io sono medico o prendiamo C raga prendiamo C io sto andando su A ma sono da solo io sto vivendo di assistenza ragazzi io sono sempre nel cesso raga una mano su A per favore eh l'abbiamo preso C preso dove? su A ma cosa ci fa questo? come ha fatto rianimarsi? no ma ragazzi ma hanno accoltellato da dietro questo figlio di puttana adesso lo vado in seguire a piedi buono raga io sto nel cesso che mi ricuro Johnny sono qua con te pure io sono qua con Johnny andiamo su B su B su B su B anch'io vedo il culone di Johnny ognuno pare un ingresso e io parlo a sinistra io parlo a sinistra raga sono tutti qua da destra tipo segnalate li arrivano tutti da destra dall'ingresso ho visto ho visto anche da sinistra se non sbaglio si eccolo preso occhio eh Johnny ti sono morto in faccia tranquillo ti rianimo a livello di minaccio anche io comunque per essere un FPS così però devo ancora capire un attimino come funzionano le tattiche le tecnologie di questo gioco allora ti posso spiegare tutto io che sono Danny Battlefield vai Battlefield allora lo scopo del gioco è che quando incontri i nemici spari e loro dovrebbero morire se per caso è come in questo momento a far vedere fuori l'interfattore cazzo battle battle resisti che arrivo arrivo no battle battle si ma se gli spari e non vanno giù cosa devo dire porta la nonna potrebbe essere una prima versione porta la nonna è la versione di Ron esatto questi sono troppo forti fammi riprendere la vita dai regà venite su A regà su A su A arrivo arrivo teo teo eh dimmi andiamo su A eh sto arrivando anche io su A occhio che ce n'è qua uno occhio 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 ce n'è uno dietro lo uccido ho fatto un drop shot che non so perché lo rianimato teo vai zampa salvate il culo Gianni vai zampa si è vero ma che qua è bella tosta che c'è sempre un sacco di gente tirate i granati a random che sono sempre le migliori arrivo io che arrivo a tirare non c'è nessuno io faccio il giro dall'alto dov'è dov'è deve morire hai preso vai vai è morto è morto è preso pure A medikit per terra ok le stiamo prendendo regà tanto eh io sto facendo il giro per andare su C sto cadendo dal tetto è il tuo trattino A qualcuno che sta su A con me aspetta che c'è il momento battuta vado un attimo su C aspetta no mi hanno accoltellato subì raga una mano vado un attimo su C vado un attimo su C eccoci bella io ho preso B da solo bella le abbiamo prese tutte raga le abbiamo prese tutte no regà regà stanno prendendo A perché c'hanno ste armi devastanti livello 100 c'è su C che sono lì messe lì sulla piscinetta che ci stanno tipo massacrando eh vabbè Oma io comunque c'ho tipo le armi dei Pokémon in questo momento sono a livello 5 10 ma l'edizione battaglia quando degli estranei ti offrono qualcosa in strada tu devi dirgli di no ti avranno dato una caramella al plutonio oggi Johnny ti voglio stare vicino vicino si vieni qua che ti voglio stare vicino vicino no perché tu mi fai ammazzare già stavano c'ho pure cettine Johnny possono ovunque io vado giù da bio no ma Johnny dimmi e Ron una tattica che funziona appena nasci lancia una granata almeno deflagriamo tutto deflagriamo 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 lo sluogo lo sluogo aia regà ma qua qua ci serve qualcosa per tenerle bandiere perché sennò ci stuprano eh dobbiamo rimanere anche noi su qualche bandiera ogni tanto va che questo l'ho preso pezzo di stronzo ma no ma da dietro non vale ma poi sono tutti neri ma perché sempre i personaggi neri mi accoltellano da dietro ma cosa sono dei rapinatori oh che ne arrivan tanti oh che che si è tuffato qua io son morto oddio quanti raga io sto andando su c una mano ma spero sono spawnato dietro di te zemp ecco veloce spammiamo spammiamo un paio di kitnet ma io ci sono oddio cric cric sono in venti lo so lo so visto 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 sono morto mi ha buttato giù la granata anzi no un m416 dai non l'ho preso dai raga porca troia mamma battaglia io provo l'f2000 zamp che cazzo questo è menta vieni qua hola grazie fiamo b fiamo b oh ce n'è uno lì compro una vocale eh no double feed morti qua rianimati guarda la ronda crocerossina si amore mio sei sexy crocerossina grazie cava zamp 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 oh subì teo buttiamoci di sotto io sono subì però aspetta faccio un giro largo così magari lo prendo da si si l'ho preso l'ho preso l'ho preso poi ne arriva uno su A da sotto johnny johnny da sinistra un attimo sto ricaricando aiuto subì zamp arrivo zamp è sopra zamp l'ho visto l'ho visto morto ne arriva un altro ne arriva un altro zamp si in altro zamp aspetta ti spawno dietro aspetta resisti un secondo ok ci sto oddio un altro porca merda no io per spacciare per spammarti il kit medico sono morto dai ancora subì sono ancora subì io sto andando subì vai johnny johnny dove sei subì subì vai giù sto facendo strage subì mi hanno ucciso devo ricaricare sono morto quanti cazzo sono no fammi tirare la granata che erano in 30 erano tutti lì avessi avuto la granata cabasesi dai dai che adesso sono con l'f2mila anch'io oddio dai subì subì regale esistiamo aspetta che faccio il giro lungo faccio il giro oddio ragazzi ho in 20 double fit via 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 abbiamo preso presi 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 suana granata mi ho presi due raga io vado a vedere a dove siete ancora su b eh no io sto andando sì sto andando su b mi ha ucciso uno con un gelato è uno che arriva da b raga raga mi ha ucciso uno con un gelato cosa è che ti ha ucciso con un gelato no johnny ma hanno ucciso con un gelato sai cos'era eh un magnum mamma mia battle un repertorio infinito mi stronzate oh raga una mano però perché vi stanno devastando dove sei? comanda comanda ma sono sempre sono sempre solo sulla bandiera vi arrivano i 50.000 quel cane là in fondo vieni qua pezzo di merda hanno preso b i cani stanno scappando vaffanculo ne ho presi due però dai dai johnny dai johnny che sto spawnandoti addosso io non capisco perché questi fa bisogno di essere inanimato questo oh 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 dove cazzo è? johnny è quello johnny dai vi lancio il git medio ma come faccio ad essere ancora vivo? si si anch'io non so come cazzo faccio ad essere ancora vivo io lancio cure così prendiamo b prendiamo b ragazzi ma a me non si ricarica la n fa niente sarà una notte infinita l'importante è dove cazzo è? il nostro livello di gioco a me quel weed skill porca troia l'f2000 è buggata si si ma continua tranquillo zeff faccio io giro non le conosco bene le armi ma è buggata questa armi non voglio no eccolo l'ho visto vai johnny vai johnny cazzo l'ho preso l'ho preso l'ho preso prendiamo b prendiamo b c'è uno anche sopra ce n'è uno qua johnny ce n'è uno qua johnny si l'ho visto prendiamo b prendiamo b occhio ce n'è uno lì ti copro da qua sotto magnumizzato magnumizzato hai presi l'acqua? vai 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 la magnum è fortissima occhio boba occhio da dietro porca eva no puttana eva con l'ultimo barlume di ronnaggine puoi sparare al tuo nemico no dai dai fammi rinascere no sono morto per andare a curare battle no aspetta johnny aspetta johnny ok ok ci sono occhio di là occhio di là johnny spara spara e non ho colpi non ho colpi devo ricaricare lo predo io ok su A sono su A io faccio il giro lungo dalle scale comunque raga butto granata tattica e vado su è giusto che questa serie di addestramento parta con grandi sconfitte iniziali sì per tutti perché stiamo facendo schifo abbiamo trovato contro un'armata da guerra ehi tranquilli ci sono io che ci stiamo su è tipo real madrid pescare prendete A prendete A prendete A non vorrei sentirmi di insulti di tutti quelli della squadra regà su A no no il sassuolo è stato anche promosso in A quest'anno eh ecco però comunque non è il pari del real madrid no beh diciamo di no siamo in ormai sassuolo comunque se comprano moscardelli forse vanno anche a vincere la champions è arrivato raga il mosca non scherzo mori stronzo ne arriva un altro qua raga aiuto ottimo lavoro ho più danni qua a destra eh lo so ce l'ho dai ma danni è fatto il figlio grande danni mi sono morto addosso io ma è medesimo devo scappare da qua perché mi sta prendendo oh ci siete due però è arrivato lo stronzo da dietro perché si bugga la n oh io e danni è il battlefield siamo in negativo eh ma di poco dai io non sono in negativo incredibile sono morto troppe volte oh c'è raga io faccio il giro eh B c'è la B occhio B stiamo perdendo B raga tiragli una granata vai Zamp guarda Zamp eh ma dove cazzo sono oh c'ho Johnny dietro di te tranquillo preso preso io ho la magnum no B è a posto A stiamo perdendo A raga buono raga buono forza oh io sono quasi a 10.000 punti vai Crick vai Crick ma dai ma non è possibile sono morto in 30 spas occhio raga io sto prendendo il C tranquillo sono anch'io Zep grazie eh da dietro stortissimo sono presa vai su da esca merda Zamp dietro di te dietro di te dietro di te porco il nemico buono a che livello si sblocca la F2000 ragazzi eh non lo so tipo livello 1000 perché è troppo no 2000 veramente non è torto neanche te sono di nuovo su B raga da solo figlio di puttana ma che cazzo di arma ha questo lo spas è uno spas è uno spas ronio ti guardo da sopra ronio ti guardo da sopra parami il culo Johnny ci sono ci sono sono sotto raga sono tutti su C adesso non passate per il corridoio che è proprio preso 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 morite infatti io ci vado storicamente da solo merda ma c'è Wids Wids Killing vado un attimo su A occhio su B raga occhio su B raga Wids Killing è fortissimo occhio su B raga io sto un attimo su A a controllare come vanno le cose Wids Khalifa no Wids Killing mori figlio di puttana oddio ma basta che si mettono tutti dentro il McDonald tra le frigitrici in altro tra le frigitrici si ci stanno le frigitrici là dentro e via quanti sono occhio la no ma coltellate raga una mano che io sto al 28% di energia sono qui sulla balconata occhio su B raga occhio su B raga occhio su B raga Krik prendici una Red Bull per l'energia tanto te ormai con le Red Bull è incredibile qua mi stanno massacrando io sono su quella balconata che ha Basisi c'è Zamp che è sempre in quella piscina cosa cerchi le triglie no raga posso chiedere perché nasco sempre sul cesso cioè capisco che faccio cagare ma farmi nascere sempre sul cesso sono proprio una cosa del genere e che cazzo figa sempre al cesso capito che le piastrele sono marroni le bandiere raga le bandiere è presa presa eh teoricamente ne abbiamo però continuiamo a perdere punti Zamp vai su C vai su C aspetta che sto aspetta che c'è un nemico che con lo spas mi ha tirato una fucilata mi ha tirato per terra ma è possibile che abbiamo contro tipo tre passa persone con il cento simile cioè sì sì è possibile porca Eva sono troppo forti voglio tornare nel cesso io io sto volando su C me l'ho pawnato questo ok l'ho fatta la pp io sono su C la sto prendendo io sto andando su C anch'io resisti aspetta ritroviamoci presa mamma mia battle battle si sta superando quest'oggi basta parola ma ero dietro un muro ce lo svono non su di là io li vado a prendere sopra quiz killing è fortissimo ma perché spawn addosso a un compagno che ha davanti un nemico fermo nell'angolo che gli sta sparando spawno su Dany battle ogni volta con paura che si è sto cazzo di quiz killing spara 8 milioni di colpi al secondo puoi andare tranquillo è sempre si sa perché non ha mai nemici intorno camperà ne sta uccidendo anche due arrivano su C doppia di battlefield bravo battle ok ho preso contro il muro la granata che giocatore mamma mia la doppia non si era mai visto è sblocanto cazzo ne ho uno qua dalla scala che mi sta aspettando cazzo mori figlio di si 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 su C ragazzi hanno preso C sotto gli occhi io sto subito solo che peso che figata fammi andare su C a morire un attimo aiuto merda ma sono sempre tutti su C io sono su A regà ragazzi scegliamo un minimo di strategia andiamo tutti su una per favore andiamo su A A A a stronzo ma io sono nelle docce con 9% di salute occhio che fa sopra che fa sopra no mi hanno accoltellato mi hanno ok hai rotto il cazzo mi hanno preso da dietro uno mi sparava e l'altro ha fatto il giro che ha basito Johnny però non ti si può sentire vieni su A e mi hanno preso da dietro cioè dai è un film porno è un porno occhio che c'è uno con l'infiltro su C con lo spas che è bianco stanno arrivando su B comunque occhio io sono da battle io spawno dietro Ron perché non vedo arrivare i nemici dov'è ma era di sotto quel nerdo muori pezzo di merda è ancora di sotto sta scappando oh stanno arrivando da A eh lo so ah eh si stanno prendendo A raga eh io provo a fare il giro largo ho tirato una granata io spawno dietro il cric eccomi anch'io spawno da cric no ero in più da dietro perché si sono accorti della mia presenza un secondo prima che gli sparassi perché sei svolgato raga sto facendo triple fit su B ma mi servirebbe una mano ok l'ho presa vai vai ecco questo con lo spas ti giuro no l'ho preso l'ho preso scappa scappa non contro il muro entra qua dentro ma perché la enemy che continua a ricaricare anche se c'ha tutti i colpi cappa si sei buggato ragazzi ma perché adesso siamo sempre noi con due bandiere e non riusciamo a rimontare il punteggio e non capisco voi esperti del settore ma veramente io e Johnny stiamo facendo schifo tutti e due sì no ma non c'entra mica è una questione di dominio delle postazioni vabbè io sto prendendo C anch'io arrivo prendi la tripla cattura dai vediamo io rimango su a gestirla perché non mi fa schierare da presa C merda c'è qualcuno in C c'è qualcuno in C merda questo qui costa F2000 battle occhio che è arrivando davanti no ti arriva da dietro occhio ah io qua sto controllando devi dimmi stare guarda a sinistra qua dove sei te figa come mi son salvato c'è qualcuno battle no c'è zampa no c'è zampa merda c'è cosa venti nemici occhio dove stanno arrivando zamp su A è dal corridoietto lì a fianco a destra uccidilo zapp uccidilo ma timmelo che c'è zamp ok ok stanno arrivando su A io contro eccolo ti ha sbozzato nella mia inquadratura zamp ok battle occhio che lì è tipo pieno li ho arati tutti devi morire sì di cattiveria aiuto no è vero che si spaccano anche i muri a destra zampa a destra visto 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 non so manco io come ci stanno prendendo B e noi stiamo prendendo C vabbè va bene mi serve un kit medico io sono da zamp nel corridoio a destra dammi un kit medico allora maiale aspetta stai fermo fermati lì che lì ti sgamano dammelo l'ho preso tutte e due su B ce ne sarà un altro dammi un kit kat e non ce l'ho c'ho soltanto su B regà su B regà se potete venire su B c'ho soltanto Kinder Bueno sto arrivando su B vieni qua mi hanno ucciso vieni zampa stanno prendendo A però i Twix eccolo lì no devi morire dimmi che c'è l'F2000 lo sapevo l'F2000 Wizkilling è un mostro ho fatto triple fidu quo ho ucciso con la granata e ho rianimato Ron mamma mia che action perché stavo sparando te merda quanti merda quanti perché vedo tutto in bianco e nero perché stai per morire you're dying ragazzi io prima di morire l'ultima immagine sarà in bianco e nero sì cioè non lo so mamma mia ma Wizkilling è fortissimo sì raga stiamo un po' rimontando però non capisco perché eh o non lo dire non l'hai messo dentro finché non l'hai messo dentro ricordati no io l'ho messo dentro comunque sì ho capito però voglio dire finché è copata quando cappella è dentro cos'è la mette sempre in chiave porno sei te che la metti in chiave porno dove cazzo era nascosto questo nella piscina mamma questo qui con lo spaz che mi spara attraverso i muri perché non posso schierare da Ron devi morire no perché quando dove cazzo era nascosto questo probabilmente era sdraiato in apnea sotto la piscina azione grazie oh mi ha tirato un copo di spaz questo deve morire raga arriva dalle scale dio lo vado a prendere io ok ok mi ha ucciso dai Daniel Battle non mora non mora aspetta che gli tiro la granata occhio occhio raga che arrivano da sopra io sto su C sono sopra raga oh mori io vado su B C C Greek mi serve una mano qui no sono su B che l'ho presa dai C arrivo ma aspetta quanti quanti raga oddio non so quanti ne ho fatti e poi sono morto che veramente non avevo più colpi io sto andando verso A eh se ne sono troppi Johnny arrivo anch'io qua no no sono andato morto mi hanno sbudellato praticamente tu di te che mi fai morire sono entrato in un corridoio mi hanno sbudellato Johnny sei il peggio del cane da tartufo eh trovi tutti i nemici cazzo oddio ma guarda nasco proprio addosso a loro ma che cazzo sono tutti nel corridoio sono tutti su A raga stiamo perdendo B vado un attimo signori qui serve un'arma per stanarli da A ci penso io mamma che nerd no eh cosa prende l'M60 venite a subire raga venite a prendere B occhio dov'era fatto fuori il primo ma ammazza non so tanto Fatman e Wizkilling con quel cazzo di F2000 della odio totale beh vorrei far notare la prestazione del Battaglia che non è così ma dai ah vabbè ma per essere l'addestramento iniziale ci può stare io sto andando di M60 vai così vado a prendere B faccio fuori tutti dall'alto vai occhio che ce n'è qua occhio che qua occhio che sono tanti mi ha segato Fatman fatto fuori che uccidono occhio Zamp ma ti è passato di fronte ma sei scemo si l'ho fatto passare apposta è tutto annotato ah ho capito ok in realtà non l'ho visto sono morto oh C regà C regà prendiamo C eh sta arrivando sta arrivando resisti io sono da Ron io sono da Jastron bella regà un kit medico merda ma sono geniere che cazzo ho tirato fuori lanciacrenate ok ce ne sono due due da sinistra destra 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 mea da sparare di fire non va per niente bene corta al marcio io comincio ad usare lanciarazzi adesso eh P andiamo su C Johnny cioè sto arrivando da sopra io dai raga tenete duro tenete duro domoragno sto arrivando anch'io su C tenete duro io sono su C presa siamo presa presa ragazzi ma come si fa a prendere le cure o a frirle ci stai sopra con la livezza sinistra se sei medico però con la levetta sinistra no con la freccia sinistra ha ucciso Balestra regà cioè una Balestra che cazzo era la granata random che mi ha trovato che ha ucciso Renato Balestra Renato Balestra killed them andiamo su A nerds preso vai vai io sono su A ucciso io sono su A questa con lo spas veramente i cabbasissimi mi sta facendo roteare ok è sempre un pericolo qua però su A date un medikit qua un medikit su A buttate ma io sono medico lo posso lanciare sto medico eh sì è il tuo lavoro cazzo eh ma dove è cazzo sono guardato io sono su B una mano io rimango su A perché sono io sto nascendo con te battle gira dietro sì 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 anche questo mi stanno arrivando tipo 35 su A dovete darmi un supporto raga sono troppi troppissimi troppi troppi io faccio il giro di qua lungo dalle spalle devono morire tutti no porca troia i team 4 tipo uscivano e chi è che mi ha ucciso Fatman ma c'è la calamita uh mi sono ucciso e ho ucciso il mio avversario sì battle sì battle ma ma che action vanno a ratti entrando io passo dalle scale stavo spiegando tutti quelli che stai prendendo te vabbè Cric passo dalle scale interne io arrivo anche su A porca merda dobbiamo prenderla no raga lasciamelo uccidere triple feed non vi potete immaginare che giocato ho fatto ho sbagliato tasto ho sbagliato tasto ho tirato una granata io sono su A rega ma l'abbiamo preso sto andando verso C ma c'è Zwemp è tornato Zwemp ecco era questo il tasto da cliccare c'è porco giuro C dai 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 abbiamo corso tutta la partita ma non riusciamo a concretizzare rega una mano su C sarebbe sono su C anch'io Johnny qua maledizione ma hanno ucciso Ron devi accedere quello salvare l'ho preso l'ho preso e ho preso anche C help 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 subì B raga Zwemp e Danny Battlefield hanno preso B oh Johnny perché sei morto occhio all'ingresso di B a destra Danny ingresso di B a destra da sopra presi presi mi ho presi due poi sono morto da che parte arrivava ah eccolo qua eh quello lì che mi ha ucciso è che ho avuto da sopra mi pare sì sì ma ce ne sono due tre quattro qua occhio ma donna li sto harando tutti ovvio devi morire ma dove sono Ron eh sono su C sotto l'ha presa però è scappato ok uno l'ho preso mamma mia stavo per fare una action veramente da super spettinato stavo riprendendo C io anch'io sono qua o le presa tu pari ok io vado a sinistra eh abbiamo perso raga però è stata una grande battaglia comunque no no sono stato in testa fino adesso battle feed battle feed eh dove sei sono in giro per dei oddio quanta gente erano tutti su A cazzo sono su B stavano tutti su A è finita è finita amici è finita abbiamo perso abbiamo perso mamma mia guardate cric è più punteggio degli altri ha capito è la prima partita che faccio ci può stare io ho fatto 32 46 io non lo so perché ho già hai dato comunque brio al team brio blu rocchetta quindi ho fatto pipì la plin plin la plin plin 90 comunque ragazzi questo era il primo episodio dell'addestramento ovviamente con il tempo dovremmo riuscire pian pian qualche prestazione migliore io ringrazio i babbi di minchia che stanno continuando a parlare sotto mentre faccio le ending ma battle è l'ultimo fai versi fai versi ragazzi posso dire una cosa io ho bisogno di un supporto morale anche da parte dei tuoi sostenitori per andare avanti se non vinco almeno una partita e se almeno non sono l'ultimo mi suicido aspetta guarda che sono non ho capito cosa ha detto vi ha laggato battle ha detto che ha bisogno di tutto il supporto del gruppo di tutti quelli che seguono tutti quanti perché dobbiamo riuscire prima o poi a vincere una partita tranquillo battle tu hai il cognome fatto per battlefield comunque niente ragazzi se hai venuto il video lasciate un bel mi piace io ringrazio johnny zamp tu mi piace 25.000 che ho perso appunto e ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti bella ciao ciao aspettinati ciao